Ho fatto il dorso intorno all'Australia, sono sceso in bici dal top di Mont Blanc, attraversai il mare in una vasca inox, ho abbracciato un orangutan, ho ingoiato un intero coccodrillo, spossai la figlia di Madame Adore, ma non sono mai riuscito a parlare con il servizio clienti tre. No, non sono mai riuscito a parlare con il servizio clienti tre. Scopri l'Alaska senza vestiti, ho piegato un uomo di fer, mangiai foie gras senza sentirmi male, ho mandato a baffa uno sgher, guardai Tour de France senza morire di noia, ho bevuto tre litri di caffè, ma non sono mai riuscito a parlare con il servizio clienti tre. No, non sono mai riuscito a parlare con il servizio clienti tre. Ho fatto l'amore con Margaret Thatcher, l'essidante fino alla fine, di canne ho fumato più quintali, mangiai il budino cambiando un pannolin. Sono caduto in un serbatoio di liquami, e sono uscito sorridendo dal purè, ma non sono mai riuscito a parlare con il servizio clienti tre. No, non sono mai riuscito a parlare con il servizio clienti tre. Sei soddisfatto? Premi uno. Sei molto soddisfatto? Premi due. Sei extrasoddisfattissimo? Premi tre. Senti la voglia di registrare un ringraziamento? Premi quattro. Vuoi lasciare in eredità il tuo patrimonio? Premi cinque. Premi giusto quel che vuoi, e premi quel che puoi, perché non riuscirai a parlare con il servizio clienti tre. No, non riuscirai a parlare con il servizio clienti tre. No, non riuscirai a parlare con il servizio clienti tre. Senti la legge del servizio clienti tre.